Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video Questa è una nuova postazione, vabbè, una nuova postazione Posso anche farlo così Allora Ok Ripjoghurt che è lì Allora, ciao ragazzi, benvenuti In un nuovo video Oggi vi voglio provare di un progetto Che sto pensando fare con Tiama, Tiama ancora non lo sa Non so perché E di fare Una serie d'animazione Passata su Power Zero Non ci credete mai Io voglio farla Perché Non sai un cacchio di animazione Farò un corso Su Creana Una pagina web Dove si centra praticamente Nelle arte e nella tecnologia Però C'è un botto di corsi E c'è un corso gratuito per 24 ore Ogni 24 ore c'è un corso gratuito E puoi imparare un botto di cose Ogni giorno Wow Cioè è una cosa bellissima Non me lo sponsorizza Magari però no Non me lo sponsorizza Quindi Sto Sto guadagnando Zero euro Per dirvi questa cosa Perché è una mia opinione Che è Molto bella Voi Se volete fare Tipo Disegno grafico Potete entrare su un corso Su Creana Perché poi Lo cancellerò Le informazioni Più informazioni Su questa cosa Che è il progetto Della serie animata Che voglio fare Allora Noi prima faremo La intro Che faremo Una parte lunga Una parte corta Queste due Le caricheremo Con youtube studio Su youtube E Anche Faremo Una cosa E faremo Cioè faremo Una stagione Con Tipo Non so 9-10 capitoli Ogni stagione E non so Se faremo Due Una Rega Io che ne so Questo è solo un prodotto Tipo Forse sì Forse no Chi lo sa Però se volete Più informazioni Sapete già dove andare E beh ragazzi Io credo che vi saluto qua Se volete Più informazioni E ditemelo sui commenti Se sono attivati Ovviamente Perché sono attivati Però Youtube Ora Stai disattivati I commenti Per i video Destinati ai bambini Ragazzi I miei video Non ci sono Limiti di età Non è destinato Ai bambini Non è destinato A niente Possono vedere Tutte le persone Quindi Io voglio avere I commenti Aperti Però In alcuni video Youtube dice Wow C'è una bambina Di media C'è Di Seconda media Dio mio Li mettiamo La legge coppa Così Non può vedere i commenti Io non lo voglio Io voglio avere i commenti Allora Nooo Allora Vi dicevo E c'è a volte Che youtuber Non mi lascia i commenti Però Ragazzi Questa è un'altra cosa Stiamo parlando Della serie animata Vero? Bene Allora Eeeh Praticamente Io Cioè Io vorrei fare Una cosa animata Non Credo che non avrà voce E se ha voce Mi manderà degli audio Tiago E poi le metteremo Su Su coso Io dirò le frasi da dire Con espressione Eccetera Eccetera Verrà una Schivez Però Chi se E forse in Italia Faremo il doppiaggio E Generale Metteremo anche Si Cioè Il doppiaggio Sarà un po' difficile Però Forse la facciamo Rega Ho 14 iscritti Sto facendo una serie Di animazione This is insane Allora Credo che sono già 4 minuti E ho avuto un fallo Con un video Che voglio caricare E non voglio che ne succeda Quindi ragazzi Ci saldiamo qua E se volete Per le informazioni Sapete già dove andare Nell'account Che c'è scritto Qua sotto in descrizione Quindi Ciao Ciao